Sono Fabio Zubani, sono personal trainer, pratico triathlon e il motivo per cui ho iniziato a correre è perché fondamentalmente è la frazione in cui sono ero più carente e di conseguenza è stato necessario approcciare e grazie alla corsa devo dire che ho trovato uno strumento in grado di migliorare non solo la mia composizione corporea ma anche dal punto di vista mentale è stata in grado di fornirmi degli ottimi strumenti per superare alcune difficoltà. Nello specifico le mie sessioni di allenamento sono differenti a seconda del tipo di gara, di competizione che sto preparando e soprattutto a seconda di quello che mi suggerisce il preparatore atletico ovvero possono essere dei lunghi, corti magari su superfici diverse in modo da allenare il piede, possono essere delle ripetute su asfalto, dei cambi di ritmo oppure delle ripetute in salita per potenziare un po' la muscolatura. Ho avuto la possibilità di testare queste Nike Tempo Next e si sono dimostrate davvero particolari perché confrontandole, se si può comparare una scarpa di questo genere con gli altri modelli Nike, quello che più mi ha stupito è stata sicuramente la struttura molto resistente e molto solida anche per uno come me che non è esattamente esile e davvero spettacolari questi pod che hanno una capacità propulsiva incredibile. Sono dimostrate quindi efficaci sia per distanze brevi su asfalto, per la velocità ma soprattutto mi hanno stupito per la capacità di essere comunque confortevoli ed efficienti sulle distanze più lunghe ritmo anche un attimino più lento.